Un libro che esamina per la prima volta la Costituzione italiana dal punto di vista dei disabili, mettendo in luce i problemi giuridici e di attuazione di molti diritti. Si tratta del volume Vivere uguali, disabili e con partecipazione al costo delle prestazioni, di Raffaello Belli, edito da Franco Angeli e presentato a Palazzo Lascaris.